Il Master Fauna HD è stato un vero e proprio viaggio, un percorso attraverso la conoscenza della natura in tutti i suoi aspetti. Infatti, grazie ai docenti abbiamo approfondito diverse tematiche, sia della natura in sé, della fauna e della flora, ma anche di tutto quello che poi è l'aspetto di coesistenza con l'uomo. Inoltre, questo Master mi ha permesso di allargare la mia rete di conoscenze, sia appunto incontrando nuovi docenti e nuovi esperti, ma anche conoscendo dei colleghi e degli amici e delle amiche che sono attualmente magari i miei soci della società che io sono riuscita a fondare con loro, che è Ecozoica, e che mi permette di davvero dare sfogo ai miei sogni rispetto alla divulgazione e alla comunicazione della natura. Consiglio questo Master perché, a mio avviso, servono sempre più figure, sempre più comunicatori e comunicatrici che hanno sia le basi e quindi le conoscenze del mondo naturale, ma che sappiano anche divulgarle e comunicarle a dovere. Inoltre, credo che questo Master aiuti le persone a trovare il proprio modo di comunicare e ritengo che questa sia una cosa meravigliosa. Grazie a tutti.